Si giocherà regolarmente allo stadio comunale di Corato, assenza pubblico sugli spalti, la gara tra i neroverdi di Gino Zinfolino e il Barletta. In programma domani pomeriggio a partire dagli ore 14.30 è valida come semifinale di ritorno di Coppa Italia di Lettanti. L'attuale inagibilità degli spalti dell'impianto sportivo Coratino aveva indotto a trovare una soluzione alternativa alla società di casa che nella giornata di ieri aveva proposto alla Figi Cipuglia come sede della partita il Sant'Angelo dei Ricchi. Anche il campo sportivo andriese inaugurato lo scorso mese dopo che per anni è stato interessato da lavori di ammodernamento non è però omologato al momento per ospitare i tifosi in una gara ufficiale. Questa mattina di conseguenza è arrivata la decisione definitiva, si giocherà a Corato e senza sostenitori sugli spalti del comunale. Le due squadre intanto ripartiranno dal pareggio con un gol per parte maturato nella gara d'andata. Giocata due settimane fa sul sintetico del Manzichi Apoli di Barletta, rete di Sani per il momentaneo vantaggio dei Biancorossi di Franco Cinque, pareggio Coratino con un acuto di pregevole fattura realizzato da Sisalli. Lo stesso Sani, espulso in quel precedente, salterà la partita di domani per squalifica al pari del giovane difensore Fanelli e del centrocampista Milella. Chi vince accede alla finale regionale, che a partire da quest'anno si giocherà non in partita unica in campo neutro, ma sulla distanza dei 180 minuti. Lo 0-0 premirebbe il Corato per il gol realizzato in trasferta, qualsiasi altro pareggio che non sia l'1-1 qualificherebbe invece il Barletta. Con un risultato fotocoppia dell'andata, invece, saranno i rigori e senza transitare dai supplementari a decidere la finalista. Sarà il terzo precedente stagionale tra le due squadre, il secondo al Comunale Coratino. Il primo è andato in scena ad inizio mese nel campionato di eccellenza e fu vinto dai Barlettani per 1-0 con gol decisivo di Lorusso. L'altra semifinale di Coppa Italia di Lettanti, infine, vedrà come protagoniste ed antagoniste Forti Saltamura e Casarano. La gara d'andata è programmata per mercoledì prossimo sulla Morgia. Il ritorno si giocherà esattamente due settimane dopo il 19 dicembre al Capozza.